Corsa in solitaria per Carmine Zvigarelli per la presidenza della FIGC e l'IND Comitato Regione Campania per il quadriennio olimpico 2021-2024. La maggior parte delle società sono favorevoli alla rielezione e inoltre non si è presentato nessun candidato in opposizione a Zvigarelli. L'assemblea si svolgerà domenica prossima a Paladal Mauro dove verrà confermata nuovamente la presidenza. L'avventura guida dell'IND Campania risale al 2019 ottenendo fin da subito l'appoggio delle società per la gestione e l'ascolto delle problematiche dei singoli club. Intanto l'IND attende le direttive nazionali per riprendere i campionati interrotti lo scorso ottobre dal DPCM emesso dal governo per limitare il contagio da coronavirus. I prossimi giorni saranno fondamentali per comprendere le indicazioni nazionali per i campionati dilettantistici. Si potizza la possibilità della ripresa degli allenamenti individuali con la ripresa dell'ostilità tra febbraio e marzo. Ma tutto questo al momento non può essere realizzato solo dopo che il governo italiano indicherà la strada da seguire in base all'indice di contagio RT delle varie regioni. Intanto per il 6 febbraio è stata fissata l'assemblea elettiva dell'IND e in vista di esse i presidenti dei comitati regionali hanno espresso all'unanimità la richiesta di una ricandidatura a presidente dell'IND di Cosimo Sibilia. Grazie a tutti.